Continuando l'esplorazione nel fantastico mondo di TypeScript al capitolo delle funzioni, sempre seguendo la doc, andiamo a toccare un paio di topic più avanzati che fanno riferimento a questa sezione Moron Functions della doc di TypeScript. Al momento le nostre funzioni comunque sono tutte molto semplici e vanno anche ad avere requisiti stringenti in cui proprio andare a ritornare dei type più ristretti, quindi si mette a restringere quello che è il campo di return che può avere la nostra funzione, andiamo a restringere in maniera corretta la tipologia di parametri che possono accettare e quant'altro. Andiamo un po' a vedere di type strani e situazioni particolari. La prima situazione che andiamo a vedere è quella in cui una funzione effettivamente può avere due return in base a quella che è il soddisfarsi di una condizione, quindi se andassimo ad avere questa funzione const getValue, prende un value invece di fare questa cosa scontata, ma al momento non vediamo nessun tipo di return e andiamo a aprire la nostra arrow function per lì di controllare che value sia maggiore di 0. Poi lo facciamo che se è minore di 5 noi ritorniamo false. In caso invece fosse soddisfatta, non fosse soddisfatta la condizione, andiamo a ritornare invece che true, una stringa che potrebbe essere amico mio, oppure parlando un po' più di informatica potremmo dire 200, quindi uno server che risponde, quindi risponde 200 success. A questo punto se io andassi a vedere cosa sta inferendo la mia funzione nel suo return, come vediamo ha due tipologie di return. Dove abbiamo questa dicitura che andremo a vedere e specificare successivamente come funziona, si chiama union type, in cui appunto va a specificare che possiamo avere due tipologie di return. Qua lui è molto specifico, va a dire che possiamo ritornare false o success, ho questa scrittura qua perché effettivamente ritorna solo questo. Ritornasse il number, ovviamente avremo quello che è false e number, però la nostra funzione in questo caso va ad avere un return più stringente. Ecco che io non posso andare a garantire questa funzione, per esempio, un number, perché ho questa condizione che devo andare a verificare e ritornare, in questo caso quello che ho bisogno di ritornare e quindi non posso andare a inferire e stringere così tanto il campo come nell'altro caso. Possibile soluzione a questo giochino è che io vado a forzare il tipo di return e vado a ritornare 0 in questo caso, che è un valore che è false, quindi diciamo può essere utilizzato anche poi nel cercare le condizioni di true o false, anche se non è effettivamente la mia implementazione preferita, se no impareremo quando vedremo quello che è l'union type, come gestire queste situazioni. Poi andando avanti andiamo a vedere un altro tipo che abbiamo visto nella nostra presentazione che è quello del void, quindi andiamo ad avere const log, diciamo error, possiamo vedere come funziona, noi ci prendiamo il nostro error, non andiamo col never che vedremo dopo, andiamo, in un momento a non scrivere niente e lasciare che lui infierisca, infierisca, non infierisca, e andiamo a console logare, forse anche forse console error, a console errorare il nostro errore. Sì, a questo punto andassi a vedere cosa ritiene che ritorneremo alla nostra funzione, ecco che ritorniamo a quello che è il nostro tipo void, che è il void, è un po' l'undefined delle funzioni, ecco dovessi dire un modo terrificante per dire cosa sia il void, è il ritorno di una funzione che non ritorna niente, quindi ritorna di per sé undefined e senza ritorno, ecco. Ok, se io appunto andassi a ritornare a undefined, come vedete lui adesso ritorna a undefined, non più void. Void è una funzione senza return, questo è quello che vuol dire. Molto importante anche in questo caso andarlo a definire perché se a questo punto io ritornassi qualsiasi cosa, anche undefined, lui in questo caso funziona perché il void di per sé corrisponde a un non return della nostra funzione, ma se ritornaste già al nostro errore, ecco che inizierebbe a piangere. Quindi molto molto importante andare a selezionare anche in questo caso il type che vogliamo che venga ritornato, perché ripeto, quando stessimo lavorando con un team di persone, ecco, io ho bisogno e la garanzia che chiamando questa funzione non venga ritornato nessun valore, perché se no la mia applicazione effettivamente va a saltare completamente in aria e qualsiasi dev che arrivasse a toccare questa funzione sa che non importa cosa lui faccia, ovviamente è importantissimo quello che faccio dentro questa funzione, ma avrà e dovrà darmi la garanzia di ritornare un type void. Andiamo a vedere un altro type particolare che è il never, che diciamo che vuol dire che non deve ritornare niente, non deve avere nessun valore e come vedete già così otteniamo la segnalazione di quello che è un errore, perché in questo modo ecco la nostra funzione in realtà sta ritornando void e allora cosa serve il never? Come vedete il never va a definire una funzione che non ritornerà mai nessun valore, però anche effettivamente il nostro void di per sé non ritorna nessun valore, anche se in realtà under the hood sta ritornando sotto il cappuccio, sta ritornando quello che è undefined, never non accetta neanche questo tipo di condizioni. E allora cosa ce ne facciamo? Ce ne facciamo per andare a definire tutte quelle funzioni, tutte quelle operazioni che porteranno proprio a un crash forzato alla nostra applicazione, quindi il throw di un errore manuale. Ecco, questa casistica di never viene appunto utilizzata tra i vari utilizzi che ha proprio per andare a garantire che questa funzione non solo non ritornerà nessun valore, ma proprio interromperà quello che è il flusso completo della nostra applicazione, la funzione è quello che vogliamo, che da qualche parte deve essere intercettato. Questo è l'utilizzo del valore di never. Se volessimo vedere l'ultimissimo tipo di quella che è sempre questa famiglia dei valori un po' strani, possiamo andare a vedere quello che è il valore di unknown. Unknown, ecco, diciamo che è un po' un eni, in cui io non so esattamente che tipo esso sia, però quella differenza tra unknown ed eni è che con unknown io non posso fare nulla. Fino a quando non vado a definire che tipo questo valore è, non posso svolgere nessuna operazione. Quindi se vado a dire, ovviamente lo posso consologare, perché consologare posso consologare ogni valore. Però se andassi a provare a fare error.dot.toString, ecco che lui comunque mi impedisce di fare anche questa operazione che tecnicamente dovrebbe essere permessa su qualsiasi tipo di oggetto o type, perché lui mi dice che non sa che tipo sia e quindi onde evitare qualsiasi errore che si possa verificare, io devo andare a definire prima che tipo di oggetto sia. Quindi colore error, diciamo che if typeofoferror è uguale a string, allora in questo caso posso andare a svolgere questa operazione, che però come vedete ci porta a nostra funzione a piangere, perché se questa condizione non è verificata, allora io sto ritornando void, ok? Quindi dovrei andare qua a trovare un errore che è generic error. E non va a fare questa roba qua, anzi a fare questo gioco qua, e va a dire che ti becchi un bel 500, detto in maniera terrificante. Queste sono un po' le tipologie di dato un pochino strano, Annaun è l'unico che non c'entra effettivamente con le nostre funzioni, ma mentre c'eravamo andiamo a vedere un po' tutte le cose strane. Va bene? E va, va!